Ciao a tutti ragazzi sono Gianni e ben ritrovati qui sul mio canale siamo tornati con il roto spacchettamento dopo l'ultimo episodio di fuoco scandaloso perché abbiamo perso malamente tutte e due le partite abbiamo aperto due pacchetti bronzo dove abbiamo trovato di tutto veramente cioè niente e andiamoci a fare le due partite di oggi dovremmo avere 1300 fifa points tipo non ricordo ma subito l'obiettivo di oggi di queste due partite che sarà fare una tripletta con abu abubacar fare una tripletta che non vuol dire fare tre gol in due partite attenzione ma una tripletta in una partita quindi abbiamo due partite per fare una tripletta in una partita diciamo con abubacar ho messo un po di bronzi che avevo trovato dall'inizio serie praticamente per abbassare un po la valutazione in modo da non farci trovare gente troppo ganza è questo già già in più forma lo vedi latenza a2 vabbè noi giochiamo via così con la maglia della roma no non cambio maglia roma vediamo un po norbi 78 valutazione e c'è il centrocampo bell c'è un bel centrocampo c'è cazzorla gerrard non so chi sia quello neanche quello c'è debushy c'è santana e comunque più forte della nostra non è irresistibile ma ci sono quei due ignori lì davanti che mi fanno abbastanza paura lagga un pochetto giusto un pochetto occhio occhio no vabbè ma io non riesco a giocare così fuori gioco no ma c'è lagga da matti avevo visto il 2 di latenza il ping 2 no vabbè ma come si fa a giocare così ma che fa è pazzo abubakar dentro sanabria non aggancia vai morales morales sei solo morales sei solo morales oddio santo ma come fai a fare un tiro così sarei mancino va bene però dai sanabria domani questo non so come lo vedo sto tizio giuro che non so come me lo vede sto tizio cioè si ferma e strafatto secondo me strafatto lo così abubakar abubakar no perché che dirà mamma mia che ciabattate che tirate oggi sanabria 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 oddio è pazzo è pazzo sta fuori di testa sta fuori di testa ma io non riesco a giocare che lagga da cani non so se i cani laggano ma per rendere l'idea no ma io non riesco a giocare giuro questa la perdo perché so già che la perdo guarda non si fermano va baffa so già di perderla sta partita fa un tiro più che altro fa un tiro solo e lagga guarda pure i replay primo tiro in porta vedi ma vedi che non si riesce a giocare lo vedi che non si riesce a giocare come fai a giocare anche tu come fai a giocare pure tu non ci credo sanabria dormi dormi sanabria ma sielo ma sielo sana e vabbè madonna ma io c'hai pesci vendoli a giocare i pesci vendoli vabbè abubakar prendila oddio che è successo no no vabbè guarda si si accappottano tra loro ma che sta succedendo perché non riesco più a vincere sanabria è buona è buona è buona ti prego abubakar no non ci credo non ci credo non ci credo ho già detto che non ci credo non ci credo guarda guarda perché non vanno si scontrano a cosa ho appena assistito cioè veramente ma stiamo scherzando non ho parole non gioco non sanno giocare sono chiaramente ma c'è la i pesci vendoli elettricisti cioè non non sono giocatori sembrano i giocatori dell'isola faro perché capiscono tutti elettricisti idraulici e professori non sono giocatori già sto gioco fa schifo di suo si alza la mano alza la mano continua ma tico io si può ma che che gioco è ma stiamo scherzando che gioco è cioè questo ha fatto tre tiri tre gol uno più merdoso dell'altro tanto non lo fai vedi non lo fa non lo fa perché impedito commentate voi a posto mio perché io non ho più parole che schifo che schifo partite di merda per un gioco di merda tutto tutto ma sono proprio curioso di vedere i tiri ne ha fatti tre contati sicuro vabbè togli che ne ho fatti anch'io tre importa soltanto ma ne ho fatti 10 non ci sono più i pacchetti tots da da 75 fifa points quindi da ora in poi quando perdiamo non apriamo nessun pacchetto tranne se dobbiamo fare che se perdiamo apriamo un pacchetto argento se pareggiamo un oro da 5000 e se vinciamo un oro da 7500 potremmo fare così però ci penso bene dalla prossima volta per ora quando perdiamo non apriamo nessun pacchetto e rimaniamo così allo stesso livello nostro praticamente solo che all'intesa 100 però se si muove diamo a 70 100 appunto d'intesa già dei pai e con l'attaccante del psv non so chi sia ma comunque a baccali di lena a tutto il psv esattamente a tutto il psv tranne il coc che dal vites a waynaldum attaccante e waynaldum carta attaccante infatti mi sembrava waynaldum solo che il ruolo attaccante mi ti muovi l'ho visto morales morales ti prego morales tu insisti rigore nettissimo e questo è nettissimo però morales è un impedito venditore di pesci è rettissimo sto rigore mi ha uccidito mi ha tirato da bubacar visto che il nostro obiettivo è di tirare la triple di fare la tripleta con a bubacar a bubacar a bubacar ti prego a bubacar torniamo al gol finalmente una zero a bubacar e che diamine su andiamo torniamo a vincere pega mamma mia masiello fresco di rinnovo di contratto e mannaggia a te che tra rinnovato non a lui cretino oddio che dira gol oddio che gol oddio che gol di che dira mamma mia 2 a 0 ottavo minuto di sinistro che dira e vabbè bravo sto qui ma questi hanno i suoi giocatori no 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 iniziamo già iniziamo sanabria no ma quanto lag ma quanto lag sanabria madonna oddio oddio che apertura florenzi signori che apertura e la battiamo corta albio albio che crossa che dira rifallo che dira ti prego eh vabbè masiello oddio oddio masiello oddio masiello mamma mia la ribattiamo corta ma perché sempre albio albio mamma mia la finta di albio albio riprendila non ho parole sanabria 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 i piedi quadrati ammo eh non so dimmi tu le otto no mi stavi facendo prendere gol lo sai ma lo sai chi riesce nel video facciamo sete e mezza vabbè ok 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 ciao ok no 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 via sta palla oddio oddio che sta succedendo prendi sta palla occhio 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 no non ci credo non ci credo che due palle sono troppo veloci sono troppo veloci dai giorgino che fa no ragazzi ho il timore ho il timore via via sta palla via sta palla e vabbè non iniziamo però eh non iniziamo non iniziamo fa il gol della merda giuro oddio santo subito guardalo 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 posso giocare con questi cristi posso giocare con questi cristi oddio che m'ha preso oddio che m'ha preso stiamo soffrendo stiamo soffrendo via sta palla via sta palla via via sta palla che sto prendendo sto salvando di tutto 82esimo ti prego ti prego ti prego script aiutami ti prego ragazzi sono una sofferenza una sofferenza inaudita sta partita è una sofferenza inaudita ti prego vi prego via sta palla non scontratevi tra di voi cosa non era mai fallo santo chiede ma perché a lui c'era bubacar solo verrò esonerato verrò esonerato è così difficile fare due passaggi di fila è così difficile via sta palla oddio florenzi tienila la badierina tienila la badierina buona è bellissima è bellissima con lo script farà un'azione fantastica ma con lo script che azione ragazzuoli mamma mia mamma mia ma dal primo episodio che non l'aprivamo dal primo episodio anche quest'oggi come lo scorso episodio il bonus non è stato superato purtroppo però ci andiamo ad aprire il pacchetto da 5000 oro perché abbiamo vinto la partita ok pacchetto oro 100 fifa points pacchetto oro 100 fifa points pacchetto oro 100 fifa points e troviamo so e culibali che ha una mascella incredibile un attaccante con 50 di velocità va bene però è un musasò musasò è buono poi c'è figueras e c'è iturra di nuovo ok abbiamo portato altri no un altro cambio abbiamo portato per ora il cambio al terzino destro quindi dal bronzo abbiamo l'oro questo qui del civiglia che si chiama figueras e io direi di andarlo a mettere su di andarlo a mettere magari come attaccante punta però potremmo fare un cambio di modulo sapete ok abbiamo fatto questo cambio di modulo abbiamo messo il 433 col coc in modo tale che leviamo sanabria che è abbastanza il più pippone di tutti non abbiamo più bronzi in questo momento non abbiamo più bronzi e quindi da questo momento che non abbiamo più bronzi modifichiamo dalla prossima dal prossimo episodio vi dirò un po come modificheremo le impostazioni così dalla vittoria dell'apertura dei pacchetti come vi dissi nel primo episodio se l'avete visto ovviamente vi lascio in descrizione l'episodio il secondo episodio no il terzo il terzo episodio il secondo episodio il primo episodio vabbè non so se questo è il terzo o il quarto mi sto sono un po pazzo però a questo momento abbiamo tutti i ori un argento solo quindi con l'argento solo dobbiamo aprire per forza ancora il pacchetti d'argento però vi spiegherò tutto il prossimo appuntamento quindi per questo appuntamento appunto il per questo appuntamento è tutto spero che il video vi sia piaciuto se fosse così lasciato mi piace commentate condividete se avete qualche consiglio so che non commenta mai nessuno ma se avete qualche consiglio scrivetemelo qui sotto da The Giant è tutto ci becchiamo al prossimo video bella